Preoccupazioni di bilancio per la provincia di Pescara. Il groviglio si muove su due linee. Da un lato lo stanziamento di fondi destinati alle province in crisi economica, 100 milioni di euro destinati all'Abruzzo, da ripartire per province, dunque 4, ma non equamente, in base invece alle difficoltà del territorio, ecco dunque che ci si aspetta una congrua fetta per la provincia di L'Aquila. Per accedere a questi fondi, però, indispensabile era innalzare al massimo le aliquoti di IPT, a dimostrazione dell'effettiva difficoltà. L'innalzamento di per sé porterebbe nelle casse provinciali 2 milioni di euro e a questo punto Forza Italia e i gruppi alleati pensano al salasso verso i cittadini residenti. Oggi torna su questo aspetto all'esito dell'esame del schema di decreto già compiuto nelle varie commissioni perché siamo ancora più convinti dell'assoluta inutilità di questa ipotesi di aumento al massimo dell'aliquota IPT. L'ipotesi di per sé è disarmante perché si cerca di attingere ad un contributo di 30 milioni di euro complessivo per tutte le province d'Italia che genererà davvero un'entrata irrisoria, qualora peraltro dovesse arrivare un'entrata in meno certo, per la provincia di Pescara a fronte invece di aumenti consistenti dei quali non c'è nessuna necessità. Noi avevamo già fatto una variazione di bilancio all'annualità 2015, prevedendo una voce specifica di entrata di 2 milioni di euro, devono spiegarci perché questa voce improvvisamente sparisce. Non si può pensare in questo momento di fare giochini e alchimie tecniche di bilancio e scaricare sulla cittadinanza un ulteriore salasso fiscale. Non lo consentiremo. Salasso fiscale è quantificabile? Sì, diciamo che l'entrata annuale a regime dovrebbe generare intorno ai 3 milioni di euro, siamo sui 250 mila euro mensili.